Buongiorno a tutti, chiedo ai giornalisti di prendere posizione, ringrazio tutti i giornalisti che sono intervenuti, sappiamo quanta difficoltà fanno le redazioni a mandarvi sul posto, ringraziamo loro e ringraziamo voi di essere presenti. È con grande orgoglio e con grande soddisfazione che San Patrignano ospita il primo forum sull'economia positiva in Italia. San Patrignano crede molto in questa nuova idea di economia ed è senza dubbio uno dei modelli di economia positiva. Al nostro tavolo conoscete benissimo le tre persone, i tre relatori del nostro forum, Già Catali, presidente di Planet Finance Group, Letizia Moratti, cofondatrice della fondazione San Patrignano e una delle prime persone in Italia a sostenere questa nuova idea di economia e Andrea Illi, presidente dell'azienda Illi. Darei quindi la parola un attimo alla dottoressa Letizia Moratti che ci spiega come siamo arrivati a portare questo importantissimo forum a San Patrignano. Grazie, il lavoro di questi mesi per portare a San Patrignano il forum dell'economia positiva è stato un lavoro intenso, importante, nato credo da un'amicizia con Già Catali che mi onora e onora San Patrignano e nato quindi proprio dalla volontà di portare questo primo forum che inizia un percorso internazionale sull'economia positiva in un luogo che ha come punti di riferimento dei valori e dei principi che stanno alla base dell'economia positiva, quindi l'altruismo, la fiducia, la partecipazione, il rispetto dell'ambiente. Quindi diciamo che questi sono stati i fattori chiave che hanno poi dato l'avvio al forum di questi due giorni. Il forum è stato preceduto da un incontro in Bocconi dove è stato spiegato, è stato lanciato il forum che si tiene in questi due giorni a San Patrignano proprio perché il ruolo delle università così come quello delle scuole è indubbiamente un ruolo importante nel costruire non solo un'economia positiva ma costruire una società positiva. Abbiamo ascoltato anche nelle relazioni di oggi come il concetto di economia positiva includa una partecipazione da parte di tutti, dei cittadini. Quindi addirittura forse si potrebbe parlare e pensare alla società positiva. E quindi diciamo che le due giornate di oggi hanno come obiettivo, come dicevo, la condivisione dello straordinario lavoro che Jacques Attali con il gruppo del Movimento per l'economia positiva ha già fatto in Francia anche con la partecipazione di Andrea Illi. Io mi onoro di essermi aggiunta a questo movimento per l'economia positiva e l'obiettivo è quello di fare in modo di uscire da queste due giornate con delle proposte concrete da mettere poi in consultazione per arrivare a individuare un piano d'azioni per il nostro Paese da presentare al Governo ma non un piano d'azioni nella concezione di azioni che devono essere fatte esclusivamente dal Governo. Un piano d'azione che può coinvolgere tutti, le imprese, le università, le ONG, i territori. Quindi un piano d'azione della società da presentare al Governo per eventualmente anche modifiche, integrazioni normative ma con un processo di partecipazione attiva e con la volontà di sapere che ognuno di noi può e deve contribuire a questo concetto di economia positiva soprattutto in un momento in cui viviamo una crisi indubbiamente epocale e quindi in un momento in cui è necessario dare un nuovo impulso alla crescita, all'occupazione, al benessere e per poterlo fare abbiamo sicuramente bisogno di strumenti diversi. Non potremo non uscire dall'attuale crisi utilizzando gli strumenti che abbiamo utilizzato fino adesso. Quindi c'è questa consapevolezza, ci auguriamo che questa consapevolezza cresca e diventi davvero un movimento di tutti in modo tale che poi tutti insieme si possa contribuire a cambiare in meglio la nostra società. Bene, dargli adesso la parola a Jacques Attali, Presidente. Grazie Letizia, è un gran piacere di essere qua e di essere a San Patriniano. Ho già detto le relazioni che abbiamo e la grande importanza che San Patriniano ha come modello di economia positiva che significa lavorare nell'interesse delle prossime generazioni. Siamo qua per essere di spiegare con molti esempi qual è l'economia positiva e durante le due giorni vedremo gente che vengono da tutto il mondo per spiegare la loro azione di Africa, d'India, di America Latina, eccetera. Ma più di questo, molto più importante, è di usare questi due giorni per definire un programma di lavoro per l'anno prossimo. Perché vogliamo che questa riunione non sia un'occasione di spiegare qualcosa che è l'interesse delle prossime generazioni, ma anche di provare di trovare concreta azione a lanciare, specialmente in Italia, perché abbiamo fatto l'anno scorso in Francia nel corso del nostro lavoro per definire l'economia positiva e abbiamo trovato un misuramento di tutti i paesi più moderni dell'OSD e abbiamo trovato che l'Italia è uno dei più peggiori. Ci sono solamente due paesi dell'Ocse che sono peggiori che l'Italia, sono Grecia e Turchia. Ci sono ragioni per questo e vogliamo essere capaci di trovare azioni da lanciare per i prossimi 12 mesi per essere capaci di trasformare questo non solamente per la legge o per l'azione che possiamo raccomandare alle autorità politiche, ma anche nelle imprese, nelle ONG e tutte le persone di buona volontà. Questo è il ruolo che vogliamo avere qua, perché non è sufficiente di avere una teoria, è molto importante di avere un'agenda di azioni. E' questo che vogliamo qua. Come lo facciamo anche in Francia, abbiamo la terza riunione di questo movimento in settembre e anche abbiamo questa riunione in Canada, in Marocco, in Singapore, in South Africa negli prossimi mesi. Grazie mille per Letizia e per la sua collaborazione e per l'ospitalità in questo meraviglioso esempio di economia positiva che è la comunità di San Patrignano. E grazie anche a Andrea Illy per il suo supporto per questo. Un'azienda di impegni che si baserà sul documento per l'economia positiva che Andrea Illy ha aiutato e ha tradotto e soprattutto ha adattato alla situazione italiana. Non c'è copie di questo documento? Abbiamo le copie del libro? Sì, però dopo le possiamo anche distribuire. Dopo vi distribuiremo appunto le copie del libro sull'economia positiva. Insomma ad Andrea Illy la parola per spiegare un po' di che cosa si tratta. Grazie. Io sono qui come imprenditore innanzitutto e anche ho avuto l'onore di contribuire al gruppo di lavoro di svariate decine di persone di Jacques Attali per la messa a punto di questo primo studio che è stato presentato al presidente Hollande l'anno scorso. e quindi poi ci siamo proposti anche insieme a Letizia Moratti di cercare di portare in Italia questo modello dell'economia positiva in un momento meno positivo di quello odierno perché oggi il quadro è indubbiamente più positivo rispetto a quando iniziavamo a parlarne. Alla ricerca di una possibile soluzione. perché non è solo teoria l'economia positiva ha un risvolto pratico che può essere applicato nelle aziende subito e da questo punto di vista avendo anche così lanciato lo slogan di voler far diventare il caffè la bevanda simbolo dell'economia positiva attraverso quella che è la mia azione imprenditoriale quotidiana cerco di andare in quella direzione. economia positiva significa innanzitutto temi quali lo sviluppo sostenibile di cui il caffè ha enormemente bisogno ricordo che ci sono 50 paesi tutti in via di sviluppo che producono il caffè e tutto il consumo diciamo 80 per cento dei consumi invece nei paesi molto sviluppati quindi c'è una pessima distribuzione della ricchezza in cui il valore aggiunto che rimane nei paesi produttori è non sufficiente a garantire nella maggior parte dei casi delle condizioni di vita sufficienti alle famiglie produttrici che sono non meno di 25 milioni coinvolte questo è uno dei motivi per cui guidati dalla etica di mio padre Ernesto abbiamo cominciato più di 25 anni fa ad occuparci di questi temi collaborando anche con dei importanti economisti come Brian Arthur per cercare di trovare nella teoria del feedback positivo quello che è diciamo il carburante dell'economia positiva oltre allo sviluppo sostenibile che ovviamente ha le sue tre diciamo sfaccettature quella economica quella sociale che ne deriva per lo più e quella ambientale vi è un grande tema di speculazione che contribuisce all'instabilità del sistema Jacques Attali ha sostanzialmente identificato tre capisaldi dell'economia positiva che sono sviluppo sostenibile contenimento della speculazione e terzo altruismo la speculazione nuovamente prendendo a prestito il caffè come laboratorio se vogliamo è un problema molto grave perché vi è un prezzo che si forma sulle borse dove vengono scambiati dalle 10 alle 15 volte la quantità di caffè che viene effettivamente prodotto fisicamente quindi questo ovviamente non fa altro che amplificare la volatilità dei prezzi la volatilità dei prezzi del caffè è esacerbata dall'impatto del cambiamento climatico perché il cambiamento climatico impatta la caffè cultura in almeno tre modi diversi o attraverso un eccesso di piogge che provoca infestazioni o attraverso siccità o attraverso una temperatura troppo alta dell'ambiente e quindi ogni volta che c'è ed è sempre più frequente una calamità diciamo dal punto di vista ambientale meteorologico la caffè cultura ne soffre non si riescono a ricostituire le scorte e ogni volta che c'è anche un leggero deficit i prezzi vanno alle stelle e questo manda letteralmente sulle montagne russe i mercati e comporta gravi condizioni di destabilizzazione anche per i produttori di caffè questo è perché abbiamo speculatori sul mercato che non hanno niente a che fare con il caffè non hanno nessun interesse semplicemente hanno delle masse di liquidità da investire nel brevissimo termine anche con la tecnica dei computer che fanno il cosiddetto high frequency trading con il high frequency trading che è solo un modo come limare i lingottini d'oro per arricchire gli speculatori in realtà questo va a cagionare dei danni non indifferenti alle famiglie povere e ai milioni di famiglie povere dei paesi del sud del mondo che fanno il caffè quindi anche questo è un motivo per abbracciare con entusiasmo questo movimento dell'economia positiva il terzo è quello dell'altruismo che deriva in questo caso più da una osservazione pragmatica della nostra società che è diventata iper complessa i mercati mondiali anche non solo a seguito dell'esplosione demografica ma anche della globalizzazione dei mercati sono diventati talmente complessi per cui l'unico modo per affrontarli è quello di fare riferimento appello all'intelligenza collettiva e che vuol dire mettersi assieme collaborare un approccio intelligente che già nel suo studio sulla stupidità umana Carlo Cipolla aveva identificato nel 1976 ossia fare il bene di se stessi e degli altri contemporaneamente quindi sono tutti e tre capisaldi sviluppo sostenibile lotta alla speculazione selvaggia e altruismo che ritengo siano molto utili per un prodotto che ha tanto bisogno di economia positiva grazie ringrazio Andrea Illi non so mi fa piacere di sentire il nome di Cipolla ci sono domande da parte dei giornalisti buongiorno sono Andrea Agostino di Avvenire una domanda per Attali lei ha detto che l'Italia è al terzo ultimo posto in quella classifica qual è la posizione della Francia quanto sta sopra l'Italia e come si spiega la differenza la Francia è 17 si mi ricordo bene le tre prime paese sono le paese del nord Svizzera No, Norway, etc le differenze sono demografia stabilità delle istituzioni infrastrutture che sono le tre principali differenze e tutto che va come la politica della famiglia e la politica del housing, etc ma vedremo perché vedremo nel prossimo in settembre Scusate, una precisazione l'indice non è un indice Ocse è l'indice dell'economia positiva che ha fatto il gruppo esattamente sui paesi Ocse ma non è un indice Ocse Scusate Sì, sì, è vero molto importante Scusate Scusate Scusate